La famiglia Day e la VL scrivono insieme un'altra pagina di una storia infinita. Felice ed entusiasta, Austin Day è pronto a reindossare la casacca biancorossa dopo il suo trascorso in città nella stagione 15-16 e riabbracciato oggi da alcuni tifosi accorsi per la sua presentazione ufficiale. Dopo l'esperienza di qualche mese in Taiwan, dettata da alcuni problemi fisici che lo avevano allontanato per un attimo dal basket europeo, Austin rimette piede a Pesaro a 35 anni suonati, ma con ancora l'euforia di un ragazzino. L'obiettivo che si è prefissato infatti è quello di spingere la sua nuova vecchia squadra ai play-off. Tornare a Pesaro è una grande motivazione, voglio contribuire e dare al massimo tutto quello che posso per fare in modo che la squadra arrivi ai play-off. L'altra volta ho giocato a Pesaro ma non siamo riusciti a disputare i play-off, quindi stavolta l'obiettivo è questo. A Taipei, a Taiwan mi trovo molto bene, però sicuramente venire a Pesaro mi farà stare ancora meglio. La tentazione della società di riportare Dei in maglia bianco-rossa ha portato alla fine i suoi frutti, andando a rinforzare un roster che vista l'assenza di Mazzola necessitava di un rincalzo. Euforici i tifosi ma anche Papa Darren, che a Pesaro nell'88 e nel 90 vinse gli unici due scudetti dell'allora Scavolini. Il figlio d'arte, a differenza di sette anni fa in cui indossò la numero 9 come il padre, ora ha scelto la 23, maglia con la quale cercherà di attirare Papa Darren fino alla Vitrifrigo Arena. L'ho fatto contento, l'ho reso contento e gliel'ho detto quando ho firmato, quindi quando era ufficiale, ovviamente entusiasta. L'obiettivo e il sogno è quello di averlo qui prima della fine della stagione in modo tale che possa vedermi giocare con la maglia che l'ha reso celebre anche a lui. Il sogno di un ritorno dell'ala grande americana nasce in una notte tra febbraio e marzo, quando il presidente Costa pensò di riacquistarlo dopo alcuni passi mossi già quest'estate. Walter Magnifico, in ottimi rapporti con la madre di Day, la contattò chiedendo informazioni sul figlio ed ora a distanza di settimane da quel curioso interesse, Austin è pronto nuovamente a tingersi di bianco-rosso. La mia madre ha avuto un ruolo importante, lei c'è sempre, ovviamente come anche mio padre, è stato divertente anche il fatto che comunque sia lei che Walter Magnifico sentivano spesso, dicevano che sarebbe stato bello che io tornassi qui, alla fine sono tornato e ho fatto contento anche loro. Un ritorno molto gradito, molto piacevole, ma poi alla fine si deve concretizzare tutto in mezzo al campo che speriamo ci dia l'aiuto di cui abbiamo bisogno, ne siamo convinti, quindi siamo molto felici e ci prepariamo a queste ultime otto partite che devono essere molto positive per noi. Sappiamo, tecnicamente, a livello di carattere, di leadership, insomma, il giocatore che malgrado quest'anno ha cominciato un po' in un campionato particolare, in modo ritardato, però ha sempre cercato di fare la differenza ovunque è andato a giocare. La Venezia ha quattro anni intensissimi con grandi vittorie, quindi ci aspettiamo qualcosa del genere, non di vincere come ha vinto loro sicuramente, però che ci possa dare un contributo adeguato.